Daniele Ratti, intanto una bellissima atmosfera quella partenza dell'Amster. Sì, come tutti gli anni qua c'è sempre tantissima gente, fa anche piacere, è una delle partenze più belle di tutto l'anno, quindi dai si parte già bene. E anche una bella corsa. Sì, queste e le Liegi sono forse le classiche più belle secondo me, poi ovviamente quando si è assistiti da bel tempo è sempre meglio, anche perché con la pioggia diventa difficile. Ambizioni di squadra e individuali? Ma di squadra sinceramente siamo abbastanza liberi, non avendo un leader come Sagan e individuali vediamo, io adesso è un po' di volte che la faccio, quindi sto bene, vediamo cosa si riesce a fare, insomma arrivare in fondo con i primi sarebbe ottimo. L'impresa che hai fatto lo scorso anno resta comunque bellissima alla volta. Beh sì, era tutt'altra situazione, tutt'altro clima, però basterebbe stare bene come stavo bene lì, almeno un po' più di sicurezza anche per me, però dai ho lavorato bene quindi si ritenta.